Pace e bene a tutti, benvenuti al nostro appuntamento con i Santi e oggi noi festeggiamo San Giuseppe da Leonessa. Ascoltiamo la sua vita. Eufranio Desideri nasce a Leonessa l'8 gennaio del 1556 da Giovanni e Francesca Paolini, una famiglia molto importante. In poco tempo i genitori muoiono ed Eufranio viene accolto dallo zio paterno a Viterbo, che gli impartisce una educazione sia religiosa che culturale. Ammalatosi lo zio, Eufranio ritorna a Leonessa, dove incomincia a frequentare il convento dei Cappuccini. Vestirà l'abito nel gennaio del 1572 e cambierà il nome in Giuseppe. A niente servirono i tentativi dei parenti per distoglierlo dalla vita conventuale. Giuseppe si distinse subito per le pratiche penitenziali. Divenuto sacerdote, accettò con gioia la nomina predicatore, accarezzando con entusiasmo l'idea di evangelizzare gli infedeli. La Santa Sede affidò in particolare l'evangelizzazione di Costantinopoli ai Cappuccini. Tra i missionari Giuseppe era stato scelto solo in un secondo momento e solo per sostituire un suo confratello, che all'ultimo momento non poté più partire. A Costantinopoli Giuseppe curò i tanti prigionieri dei turchi, ma per lui questo non bastava. Cercò allora di penetrare nel palazzo di Murad III per parlargli. Venne arrestato in prigionato e condannato alla pena del gancio. Con un uncino alla mano destra e uno al piede, per tre giorni rimase sospeso ad una trave alta, su di un fuoco acceso, sopportando anche le derisioni e gli insulti della folla. Scontata la pena, venne liberato ed espulso. Rientrato in Italia, si dedicò alla predicazione. Riusciva a tenere anche otto prediche in un giorno solo e in località diverse. Mangiava poco, legumi, pane macerato e dormiva su sassi e paglia. Nella sua comunità divenne superiore locale e segretario provinciale. A frate Giuseppe Dio aveva concesso particolari grazie come il dono della scrutazione dei cuori e i miracoli. A 55 anni si ritirò nel convento di Amatrice e si ammalò gravemente di tumore. Si tentò un'operazione molto dolorosa. Morì il 4 febbraio del 1612, a 57 anni. Il suo corpo venne inumato nella chiesa conventuale di Amatrice. Alcuni anni dopo fu trasferito alla sua città natale, dove tutt'oggi si venera. Nelle iconografie viene rappresentato sospeso sul patibolo o nell'atto di predicare. Venne beatificato da Clemente XII nel 1737 e canonizzato da Benedetto XIV nove anni dopo. San Giuseppe, frate Cappuccino, insomma così come me, arrivò addirittura a Costantinopoli, missionario, e fece questo gesto un pochino azzardato. Si intrufolò proprio nel palazzo del sultano con l'intenzione di convertirlo, sicuro che l'avrebbe convertito. È stato un gesto che gli è costato caro perché quando l'hanno scoperto poi lo hanno costretto a questo supplizio terribile per il quale fu sospeso solamente da un piede dalla mano inchiodati, molto doloroso, ma sopravvisse. Cosa apportiamo di questa storia? È un frate eccezionale, è stato un frate molto molto importante, ma questo evento forse racconta ciò di cui noi al giorno d'oggi siamo un po' poco capaci, ossia la capacità dell'azzardo, la capacità di rischiare un pochino pur di parlare del Signore. Quello che ha mosso in questo gesto un po' sconsiderato, un po' poco prudente San Giuseppe era la certezza che Dio avrebbe parlato tramite questo suo gesto e così è stato. Allora chiediamo un po' di coraggio a San Giuseppe da Leonessa, chiediamo che possa intercedere per noi affinché anche noi possiamo essere un po' meno prudenti, di quella prudenza non positiva, ma di quella prudenza che ci tiene magari relegati lontano e ci fa perdere tante buone occasioni di comunicare la fede, che per un'anima è sempre una cosa molto molto grande. San Giuseppe prega per noi. Grazie. 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 Grazie.